Ciao a tutti ragazzi, sono MagicSow e oggi siamo su Far Cry. In teoria avevo già registrato la puntata, ma è durata più di 15 minuti, quindi YouTube non me l'ha fatta caricare. Eravamo arrivati, eravamo caduti in un fiume, questo tizio brutto ci ha salvati. Ehm, nulla, mo ci ha fatto comprare una pistola, siamo qua per allenarci. Noi dobbiamo andare a scaldare le montagne per andare alle torri, quindi andiamo. Faremmo il Tour de France. Quella deve essere l'antenna. Ecco, all'antenna bisogna andare. Hop! No. Sono due serpenti. Un cazzo di serpente! Morto. Dai scagliamo sta cazzo. Mmm, big money! Ora che diventiamo ricchi, siamo ricchi! No, siamo dei barboni, non lo ricordo. Sì, sì, barboni, barboni. Manche i goni. Allora. Stiamo scalando la torre. Stiamo in alto. Grazie. Grazie figliuola. Della tua informazione. Ok. Oh, shit. O ce buttiamo? Immagini. Ah, una casa. Novi territori d'esperare. Delicioso, delicioso. Ok, dai. Ah, buttiamoci. Mi butto? Mi butto. Pum, già destinazione. Niente male, eh? Fatto. Bene. Mostrami la mappa. Vedi, l'antenna ha rivelato tutto quel che ti serve sapere della zona. Negozi, avventure, le missioni sull'isola. E, come te, Jason, i commercianti vengono da fuori. Usano le antenne per fare affari e ti ricompensano con armi per tutte quelle che liberi. Il guerriero è il cacciatore. Il guerriero è il cacciatore. È nell'ordine delle cose. Guarda la mappa. Scegli il tuo tedreno di caccia. Non devi temere i tuoi istinti. È la società che ti ha insegnato la paura, non la natura. Andiamo a tocciare. Dunque, se vuoi salvare i tuoi amici, devi conoscere la giungla. Le belle e il cuoio degli animali ti permetteranno di trasportare più armi e oggetti. Con le piante si possono creare riporti medicinali per curarti, amplificare i sensi emotivi. Estasi. Vai. Torna da me quando avrai dominato la giungla. Cosa significa? Che cosa dovrei fare? Ascolta. Il tinto dice che ho fame. Guarda. Lavora sulla mira. Lo farò, figliolo. Ma dove dobbiamo andare? Una macchina. Andiamo. Oh raga, è sempre meglio capire. Se mi conoscete sono un esperto in guida. Oh, cazzo. Bambi. No. Raga, hai un vestito Bambi. Bambi, non volevo. E, eri messo la strada. E, eri messo la strada. Vabbè. Ah, non era Bambi. Era un cervo. Meglio così. Sono un esperto guidatore, io. Non abbiamo un'altra cosa. Già arrivati. 2 foglie verdi e rosse e rosse e rosse e rosse ecco ragazzi il gameplay di oggi finisce qui prenderemo le foglie nel prossimo ciao a tutti ciao a tutti